Credo circondato dagli uomini della protezione civile. Certo, la sicurezza in queste manifestazioni è innanzitutto. In modo che la gente può divertirsi con sicurezza e diventa tutto più sveglio. Buonasera signori. Buonasera. Mi possono rispondere? E noi non mi vogliono mangiare la panita? La manchina va più contenente. E non è tutto l'amiglio. Ma non è l'amiglio. Ma non è l'amoglio. Ma non è l'amiglio. Ecco, buonasera, buonasera, buonasera. Grazie a tutti. 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 Signore come sono le pizze? Buone? Buonissime. 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 Buonasera, buonasera, tutto bene? Ciao, fai vedere che sta uscendo dal forno? Ah, eccola, la vedo anche da qua, si sente soprattutto il profumo, buonasera ragazzi, ciao, che stai preparando? Eh, che non finiscono il forno, che cosa ci hai messo su questo? Allora, siamo qua alla pizza fest, ecco i vari pizzeoli. Un bacio di petro Che schifo? La Caetania Che era a casa? Ma i zettima ne vi auguro, che si sta passando il fiore, ma i dritte. C'è un po' cuore? Ehi, tutti i vari pizzeoli, tutti i vari pizzeoli. è una pizza positanese ecco qua il positano news ciao Svizzia ciao ciao buonasera saluti bentrovati che pizza state offrendo ai nostri ospiti margherita è la speciale che contiene canella di pistacchio crema di pistacchio e mortarella ottimo saluti buonasera saluti bentrovati mi regalate un sorriso buonasera saluti che pizza state offrendo ai nostri ospiti guarda ma me positano news pomodori gialli e cagetta ah ottimo lo chef buonasera saluti auguri complimenti mozzarella filetto di pomodoro giallo e cacciotta buonasera saluti buonasera saluti le assaggiate tutte sicuro mi dici la più buona perché io non ce la faccio a mangiare no 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 sono tutte buone ah ho capito non vuoi dare il pomo buonasera saluti buonasera ragazzi mi regalate un sorriso grazie che pizza state offrendo ai nostri ospiti fa parlare prego buonasera saluti buonasera saluti buonasera saluti ben trovati che pizza state offrendo ai nostri ospiti maria e murdi maria e murdi gamberetti e zucchine ah ottimo auguri mario buonasera non fa brega non muovire il tuo parere la tua impressione grande serate grande pizza abbiamo città della pizza andiamo a competere con i più grandi post dai tuoi post facebook io non so quando tu dici la verità quando mi prendi per culo o quando quando adesso dice tu non ricordi del prete di maria che mi ha commosso però ci ti fa maria o vero o non ci ho vero comunque non ci credo è meglio di fidare hai visto che succede quando al lupo al lupo al lupo racconti le favole anche le verità diventano favole le pizze non ti piacciono dire la verità no no la folla non ti piace no no dire la verità non fa un mario mix è tutto vero è tutto vero ma anche Facebook ma sono dei sentimenti dei momenti tutta una maschera abbiamo una scelta vasta gente di ogni tu quindi possiamo dire che è un grosso successo rivederà anche domani sera secondo i pizzi un po' di musica non ce l'abbiamo un po' di musica c'è una musica etinerante quindi ah ah capito quello che si chiama il famoso andrattino no perché sennò chissi che fanno mangiano la pizza ma poi c'è il bello stacassino mi piace il tempo ci sta evitando ancora vi posso prenotare per un incontro teta teta per parlare di cose va bene mi è piaciuto questo tuo pensiero dedicato al prete scomodo si è in tante scomodo buonasera saluti ben trovati altrettanto grazie buon proseguimento di serata grazie